Musica E' il numero perfetto quello che sancisce la fine ma anche un nuovo inizio un traguardo o più un checkpoint il numero 100 è giusto un passo da Alessandro Ciulla Buonasera da Riccardo Andarella e benvenuti dalla partita tra Ussignoruzzo e Accipicchia realizzare 100 gol non è una cosa tutti i giorni è una cosa davvero di bombe e ciulla vuole stiversi a quest'albo buona partita a tutti Tutti di spalle quelli di Accipicchia adesso si girano prova a servire 5 dall'altro lato c'è Morello con Carbonaro larga per 5 5 può calzare 5 ancora Buonanno a dire di no ma 5 è informissima insieme a tutti di Accipicchia Bene con i giorni di Accipicchia Carbonaro Caccia da posizione impossibile campagna con la cipolla la correggerete C'è Sare Cipolla il vantaggio di Accipicchia Un impatto bene il pallone Riesci a mandarla Stato causato Direttamente in porto Giuliano In seconda di Accipicchia qui una mezza povera di Bonanno che non riesce a trattenere e il pareggio di Accipicchia con Giuliano sfortunatissimo il portiere in questo in questa azione anticipa ciulla ora battaglia battaglia di tacco libera giugliano che può cacciare giugliano per tu con il buon anno e giugliano fa la doppietta in pochissimi minuti e ci picchia sono in vantaggio contro signoruzzo grandissima azione un belato giugliano e un grandissimo gol e 2 a 1 in grassia battaglia 5 g5 contro cipolla alla ma io giugliano 5 il 3 a 1 degli accipicchia azione personale 5 che appoggia a battaglia e sono 3 a 1 giugliano alla tripletta del numero 3 termina qui il primo tempo super accipicchia 3 a 1 su signoruzzo di sotto momentaneamente clamoroso ma ha meritato super spot colombo terra poi già per giugliano grande in campo c'era giugliano la tenta non da fare battaglia giugliano campagna di nega il centesimo non fanno albero spazza via si salvano ancora gli accipicchia cipolla di punta trova a servire a serra ci riesce che la soppa bene mette in mezzo per sulla di testa e lo fegna così il centesimo un bellissimo ascrista di terra giugliano faccio il giugliano direttamente da una distanza previtiva carbonaro su opera giugliano mandandola per carbonaro calcio carbonaro pareggia la partita un super gol 3 a 3 quasi gol fotocopia rispetto a quello della settimana precedente ecco servito 5 un pallone troppo debole lo capisce carbonaro che riparte in velocità ancora carbonaro tunnel e ferra e serra che anticipa campagna e si ritrova a tu per tu con la porta e col gol che ribalta tutto 4 a 3 per Ruzzini Russo sempre più effetto serra mette giù può calciare battaglia serza su Colombo che però è la meglio perché ci mette la forza in fisico 2 contro 0 serra può servire giugliano a tu per tu con campagna giugliano supera campagna ed è questo un super gol il cento unesimo per Alessandro giugliano 5 a 3 tutto a posto il cento unesimo che dà la carica ai suoi compagni grandissimo recupero di giugliano giugliano ancora aperta la si tuffa campagna fa la parata della partita senza dubbio negando il gol delle 6 a 3 il signor Ruzzini un fatto bene di testa ma se tanto bella la parata di campagna la punta in battuta Pondere Morello o 5 ma il primo che gonfia la rete sotto la traversa riapro la partita Iaccipicchia 5 a 4 non è ancora finito l'ultimo tocco è il suo sul rimpallo vinto da Carbonaro vuole importantissimo Ingrassia cambia dall'attuato per Iacinque ma c'è Carbonaro che legge tutto in anticipo 2 contro 0 Culla c'è anche Serra ma falta solo Culla e adesso non lo ferma più nessuno 102 100 101 e 102 per Alessandro Culla che chiude la partita 6 a 4 ma campagna ancora dire di no sarebbe stato un gol migliore rispetto al centunesimo ci prova ora Culla mette in metto per Colombo calcia bravissimo campagna super super barata di campagna ha incollato ai piedi poi c'è Giuliano che può calciare ma non lo fa allora battaglia di veloce fare sportare con Culla 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 lo ferma solo il palo il poker personale di questa partita Ingrassia c'è Giuliano che si inserisce con un pizzico ritardo ma non c'è più tempo neanche per l'anticipo allora finisce qui Calipo fischia la fine vincolo signor Ruzzio con tanta 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 sofferenza ma la fiaciula non fa soltanto il centesimo ma ne fa uno due e tre super sport